Martedì 9 maggio, nell'incantevole scenario del castello di Monte Sant'Angelo, i buyers nazionali ed internazionali hanno incontrato le imprese all'interno di BTM Interazioni Gargano. BTM Business Tourism Management nasce proprio con l'intento di far incontrare la domanda e l'offerta turistica del Gargano verso la capitale della cultura di Puglia 2024 e il giubileo 2025. Buyer e sellers del Gargano si sono incontrati intorno al panel Il Nuovo Turismo Culturale, Virtuale ed Aumentato e la Nuova Sfida del Gargano, Experience on Air, Sostenibilità e Digitale. I partecipanti si sono poi incontrati ai tavoli one to one dove poter approfondire le reciproche peculiarità.